Bello a tutti ragazzi, vi parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Bentornati a tutti quanti ragazzi sul canale, sì sicuramente come avete detto dal titolo oggi andiamo a fare la recensione barra reazione, barra insomma impressioni su come è stato l'episodio 9x12 guardiani Sì ragazzi, l'episodio che è andato in onda ieri e devo dire che a me è piaciuto, molti magari non troppo ma ne andiamo a parlare in questo video, darò le mie impressioni, darò anche il voto all'episodio quindi fatelo anche voi qui giù nei commenti e prima di iniziare ragazzi come al solito con il video vi ricordo di lasciare un piace perché ci tengo veramente moltissimo, superiamo i 120 mi piace per questo video inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti di Walking Dead e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video e se volete entrare nel gruppo Telegram mandatemi un messaggio in privato, il link lo trovate in descrizione perché vi dico questo, perché sì ragazzi ho intenzione di fare una piccola nuova serie sul canale non è proprio una serie ma è un modo per diciamo rendervi più partecipi sul canale sì lo so potrebbe sembrare una cosa che voi direte ma che cavolo sta succedendo e sì ragazzi è scoppiata tutta ieri sera il live che non so se voi le seguite nel live dopo l'episodio ma fatelo perché sono veramente, cioè vi fanno, più che altro scoppiano poi nel trash quindi insomma quella è il lato negativo di ogni live e appunto perché scoppiano nel trash ho intenzione di rendervi più partecipi sul canale proprio grazie ai meme sapete i meme sono praticamente famosissimi su Facebook, scorrete la home e ne vedete uno e sì ragazzi molti hanno creato dei meme su di noi, su me, Danilo, insomma su The Walking Dead in generale e voi potreste rendervi appunto partecipi in ogni video appunto mettendo io il vostro meme magari se il meme è simpatico, se il meme è valutato bene ovviamente lo potete, cioè lo posso io mostrare qui ogni settimana o nella recensione o nell'analisi della promo e ne ho selezionati tre ragazzi questa settimana e citerò ovviamente chi l'ha fatto, l'autore del meme e i più simpatici verranno mostrati appunto in una top 3 diciamo ogni lunedì, ogni martedì, anzi no, ogni martedì, ogni mercoledì a seconda se uscirà nella recensione o nell'analisi della promo non ci dilunghiamo un'altra chiacchiera perché già sto andando troppo lungo vediamo al volo i meme per farvi fare giusto una risata e poi iniziamo con il video al top 3 diciamo dei meme troviamo Another Day che ci manda questo meme che dice quando passi lunedì sera a fare meme per The Walking Dead, News, Spare e altro non è molto ma è un lavoro onesto questo ragazzi è il meme della settimana uno dei tre meme della settimana fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, insomma se vi ha fatto ridere e il secondo meme invece è un classico penso che l'avete visto già su Facebook parecchie volte e c'è praticamente una persona che indica è un ladro, è un assassino e poi ha dato 8 o meno all'episodio e ci sono tutti quanti che a destra prima lo picchiano diciamo un po' perché è un ladro poi perché è un assassino ma non c'è quasi nessuno a picchiarlo e poi ha dato 8 o meno all'episodio che sono io e tutti quanti arrivano che lo picchiano questo perché? Perché lo sapete io do sempre una valutazione alta all'episodio quindi è un meme insomma per scherzarci sopra poi, allora beh, il primo posto in assoluto questo ragazzi era di Negan comunque il meme scusate se non l'ho citato e il terzo, scusate, il primo posto dei meme è di Funnel90 che c'è questo meme fantastico dove c'è questa persona che gli passa il bigliettino che sta a una scuola e praticamente io leggo il bigliettino e leggo The Walking Dead e fa schifo e c'è la mia faccia che dice ma che, come per dire, non lo dovevi dire e questi ragazzi erano i tre meme della settimana e ovviamente se volete mandare il vostro lo potete mandare qui in pagina Facebook che trovate il link in descrizione e poi chissà magari potreste apparire ogni settimana con i meme della settimana spero questa serie ragazzi vi possa piacere ha un modo per scherzare, per ridere e soprattutto per rendervi più partecipi sul canale speriamo appunto che questa cosa vi possa piacere non ci trindiamo in altre chiacchiere perché l'ho già fatto ed iniziamo subito con il video Sì ragazzi, l'episodio 9x12 guardiani devo dire che a me ha convinto non ha dispiaciuto ecco come episodio certo, molti l'hanno definito un altro episodio di transizione e molti dicono altro episodio di transizione perché ne abbiamo visti già alcuni già dal 9x10, dal 9x11 insomma, ce ne stavano parecchi però purtroppo ragazzi The Walking Dead lo sapete è così e va accettato così The Walking Dead ragazzi racconta pian piano la storia anche se comunque lo stile di Angela Kang la nuova showrunner è molto diverso dallo stile di Scott M. Gimple che Scott M. Gimple era uno showrunner che ci metteva molto più tempo per raccontare le cose Kang comunque sembra farlo molto molto velocemente questa cosa devo dire a me sta piacendo cioè a me sta piacendo il modo che diciamo Angela Kang sta realizzando questa nona stagione cioè lo stile che sta dando a questa nona stagione l'episodio comunque ragazzi va raccontato brevemente per spiegarvi quello che è successo ovviamente contiene spoiler quindi se non avete visto l'episodio non potete guardare questa recensione comunque no a parte quello ragazzi a me ha convinto tantissimo l'episodio possiamo definirlo possiamo diciamo dividerlo in storyline perché alla fine è quello che abbiamo visto c'è la storyline appunto di Daryl e Connie che vanno alla ricerca di Harry la storyline tra Harry e Lydia perché è la storyline più importante della serie già di questo episodio scusate ovvero il fatto che anche vediamo beta quindi per questo è un motivo per cui questa storyline è quella diciamo più bella di questo episodio e poi c'è l'ultima storyline ovvero quella di Negan che finalmente si rivede Negan e ci arriveremo perché ce ne sarà tanto di cui parlare proprio dello stesso Negan allora Daryl e Connie diciamo hanno avuto un ruolo molto importante in questo episodio perché sono gli stessi che sono andati alla ricerca di Harry e poi insomma se avete visto l'episodio ci riescono a prendere Harry con Lydia però diciamo che Harry e Lydia in questo episodio sono stati abbastanza partecipi infatti Harry stesso nell'episodio ha fatto totalmente il coglione perché si ragazzi Harry è un deficiente perché si nel fumetto succede la stessa cosa che Carl va alla ricerca appunto di Lydia però Harry è più deficiente rispetto a Carl ed infatti che cosa fa Harry appunto segue tutti da un botto di tempo stava seguendo i sussurratori stava seguendo appunto ed è arrivato allora a campamento e poi insomma abbiamo fatto la conoscenza di Beta perché si è Beta a trovare Harry e dire che cosa stai facendo ci stai seguendo lo prende di peso perché Beta ragazzi è un armadio veramente grossissimo cioè fa paura solo a guardarlo lo prende lo scaraventa addosso ad Alpha gli dice che cosa stai facendo ci stai seguendo e qua Harry giustamente dice sono venuto qui per Lydia e Lydia per mantenere il gioco per stare al gioco e non far vedere ad Alpha che comunque insomma questa cosa la rendeva debole o comunque insomma rendeva la stessa Lydia così diciamo non voleva far sapere la verità ecco alla madre allora ha deciso di dare un pugno in faccia ad Harry così di vecchio stile anche se tutto quello cioè alla fine è quello che vorremmo fare tutti quanti però vabbè comunque insomma ha tirato un pugno in faccia a Lydia e scusate ad Harry e proprio per non far sapere alla madre cosa realmente stava succedendo però diciamo che lì e Alpha in questo episodio mi è piaciuta tanto infatti Alpha il suo episodio cioè diciamo il suo spessore ecco all'episodio mi è piaciuto davvero tanto cioè mi è piaciuto come è stata introdotta il suo personaggio come è stata realizzata in questo episodio perché? perché finalmente abbiamo visto la sua vittima come uccide Alpha possiamo dire così cioè il fatto che lei tagli effettivamente le teste perché nel fumetto lo fa quindi stavamo aspettando giusto quello infatti c'è Alpha che uccide la sua prima vittima prendendo un filo di corda di pianoforte o un qualcosa di simile e praticamente taglia la testa a una ragazza che era la stessa che aveva messo diciamo in dubbio la leadership di Alpha che anche questa cosa mi è piaciuta tanto in questo episodio cioè il fatto che due personaggi abbiano messo in dubbio la leadership di Alpha cioè ha detto ma perché devi comandare tu il fatto che noi siamo andati a riprendere Lydia quella là era una cosa che tu non dovevi fare perché andava contro le regole e quindi l'hanno definito una debolezza di Alpha quindi mi è piaciuto il motivo e il modo in cui Alpha invece ha smentito questa cosa cioè ha detto no io non sono debole come tu pensi io sono è giusto che io sia qui al comando e te l'ho dimostrato cioè va dimostrato sussuratori che Alpha ancora è la leader e Beta che è il braccio destro di Alpha gli dà pienamente ragione infatti mi piace il modo in cui Beta obbedisce ad Alpha cioè Beta fa quello che dice Alpha perché rispetta Alpha sa che lei è al comando quindi per questo mi sta piaciendo tantissimo il personaggio di Beta e si è visto anche il modo in cui diciamo il personaggio di Alpha stava per realizzare appunto un'altra sua vittima anche se sapevamo che questa cosa non poteva succedere ovvero che praticamente stava dicendo a Lydia di uccidere Henry proprio perché per dare appunto prova ad Alpha che per lei non è nulla cioè Henry non è nessuno cioè perché chiaramente Alpha aveva paura che ci diciamo potesse essere un'intesa fra queste due persone allora ha detto senti uccidilo così mi dimostri che non mi sbaglio e fortunatamente in questo episodio c'è stato il nostro Daryl che è veramente stato un grande mi è piaciuto tanto Daryl in questo episodio perché ha praticamente giocato con la stessa maniera che gioca nei sussurratori cioè praticamente si è messo la maschera e si è intrufolato nel campo dei sussurratori anche grazie a una mandria che ha attaccato appunto l'avamposto dei sussurratori e loro sono riusciti a scappare infatti è riuscito a scappare Daryl con Harry ma la cosa bella che mi è piaciuta è che anche Lydia è scappata con loro hanno detto cioè ha detto sì ok vengo con voi proprio perché non ce la faccio più a stare appunto con mia madre quindi questa è una cosa bella cioè che ci fa capire che comunque Lydia potrebbe essere un buon personaggio e un buon membro diciamo per il gruppo perché comunque insomma potrebbe esserci parecchio utile per scoprire molto di più sussurratori avere una carta in più quindi Lydia potrebbe esserci veramente molto utile e ha fatto bene Daryl a portarsela con sé anche perché insomma voleva portarsela con sé perché era entrata ormai con l'empatia con il suo personaggio e mi è piaciuto anche questo il rapporto che c'era fra Daryl e Lydia il fatto che condividevano un po' il loro passato e la loro infanzia più che altro perché entrambi diciamo non hanno avuto un'infanzia facilissima quindi mi è piaciuto in generale il complesso questa storyline mi è piaciuto in generale il complesso appunto della storyline tra Lydia e appunto Henry con Alpha insomma come Alpha ha fatto le sue prime vittime questa è stata ragazzi una scena che mi è piaciuta davvero tanto e il modo in cui è già stata gestita mi è piaciuta anche se era un po' prevedibile il fatto che quei due personaggi sarebbero morti praticamente subito per dare dimostrazione della leadership di Alpha però è servito proprio per quello cioè per far vedere agli altri sussurratori che lei il fatto che sia andata a riprendere Lydia non rappresentavano sua debolezza e insomma l'ha dimostrato facendo appunto fuori quelli che sono le persone che l'hanno messa in dubbio quindi questa è una scena che mi è piaciuta davvero tanto ed ha avuto molto significato diciamo all'episodio per quanto riguarda invece il personaggio di Negan perché si ragazzi il personaggio di Negan in questo episodio mi è piaciuto tanto anche se ci sarebbe un'altra storyline che è la storyline tra il quadrangolo se si può dire così il quadrato amoroso perché il triangolo non c'è perché c'è anche Eugene però mettiamo il triangolo più uno de amoroso tra appunto Siddiq Gabriel e Eugene e Rosita ma quella storyline ragazzi la vorrei evitare perché comunque è una storyline messa così ma che veramente non sta avendo molto impatto sulla storia quindi diciamo che non ne citerò tantissimo non ne parlerò tantissimo in questa recensione ma mi soffermerò molto di più su Negan perché ne vale la pena e infatti vediamo Negan che è tornato nella sua cella mi è piaciuto molto questa cosa cioè mi è piaciuto il fatto che Negan sia tornato nella sua stessa cella come per dire io accetto che sta succedendo questo ormai non ho più niente diciamo da perdere però mi sta piacendo come Negan sta cercando diciamo di redimersi perché si ci sta cercando veramente ci sta provando per davvero mi sta piacendo tanto questa cosa perché comunque Negan stesso ha detto a Michonne io posso esservi utile io posso essere un membro importante per il consiglio perché si è proposto anche di diventare membro del consiglio questa è una cosa che io sono rimasto scioccato perché ho detto cioè Michonne non gli potrà mai dire di sì infatti si è messo a ridere come per dire ma che cavolo stai dicendo Negan sei la stessa persona che ha ucciso una valanga di persone sei cattivo e quindi non ne vale la pena che tu entri nel consiglio perché non esiste proprio cioè tu sei l'esempio che dà appunto alle comunità insomma l'esempio che ha dato appunto Rick cioè il fatto di risparmiarlo proprio per dare un esempio positivo alle comunità quindi il fatto che se un giorno mai ti dovessimo lasciare andare questo esempio cioè che cosa che cosa più rappresenterebbe quindi diciamo Michonne ha ragione su questo a me è piaciuto tanto Michonne anche Michonne in questo episodio mi è piaciuto il suo personaggio e come diciamo si è comportato con Negan perché c'è ragazzi mi è piaciuto molto quello che gli ha detto a Negan mi è piaciuto in generale la linea dei loro dialoghi quindi si devo essere sincero il personaggio di Negan sta avendo un buono spessore e io non vedo l'ora che esca di cella perché si ragazzi Negan rappresenterà il punto cruciale di questa storyline quindi non vedo l'ora ragazzi di vederlo in azione con Alpha si chi ha letto il fumetto sa bene insomma di cosa mi sto a cosa mi sto riferendo e ovviamente ragazzi diciamo che grosso modo l'episodio è finito come vi ho detto prima ovvero con Lydia che scappa con Daryl e mi è piaciuto veramente questa cosa di Daryl che ha usato praticamente la stessa maschera dei sussurratori per entrare nel campo appunto degli stessi sussurratori e portarsi via Lydia e Daryl ma cosa succederà nei prossimi episodi questa è una domanda interessante sicuramente se avete visto la promo vi è l'anticipo diciamo la promo ma domani ci sarà l'analisi quindi non perdetevela appunto ci sarà uno scontro tra Daryl e Beta si ragazzi Beta e Daryl si scontreranno come avevamo visto già in una vecchia promo quindi non vedo l'ora di vedere questi due personaggi in azione che si scannano anche se purtroppo Daryl è in inferiorità fisica rispetto appunto a Beta che è un armadio ma staremo a vedere insomma come andrà la situazione comunque si ragazzi l'episodio nel complesso veramente mi è piaciuto tanto ha avuto veramente tanti dialoghi belli è stato nel complesso un po' lento per carità non è stato un episodio velocissimo ma comunque mi ha convinto quindi devo dire che come ho detto ieri da un 8 più 8 diciamo l'episodio sicuramente pieno se lo merita 8 e mezzo anche perché comunque insomma il modo in cui hanno gestito i personaggi anche se la storyline come ho detto di Rosita e tutto il resto è meglio che la lasciamo andare perché veramente ragazzi è una storyline messa lì per insomma allungare un po' il minutaggio dell'episodio ma questa ragazzi è la classica cosa che fa The Walking Dead ormai non dovremmo più stupirci di questa cosa però comunque quella storyline diciamo avrà un'importanza secondo me il fatto che si sta creando questo problema con Rosita il fatto che è incinta che è incinta di Siddiq che però è innamorato di Gabriel che allo stesso tempo Eugene è innamorato di Rosita però Rosita diciamo che potrebbe avere uno spessore interessante se finisce come dico io quella storyline ovviamente ragazzi non sto facendo spoiler ma chi ha letto il fumetto magari mi ha capito perché il personaggio di Rosita nel fumetto insomma non è che è andato diciamo bene come fine però insomma ragazzi non vi sto facendo spoiler non voglio fare spoiler ma spero per per la storia che vada come nel fumetto perché così almeno la storyline di Rosita si potrebbe evolvere in maniera positiva perché per ora ragazzi è una storyline messa così e basta niente ragazzi questa era la recensione barra reazione barra impressioni insomma dell'episodio spero che non mi sono dilungato troppo anche se un po' si effettivamente mi sono dilungato troppo spero questo video ragazzi vi sia piaciuto mentre al caso vi ricordo vi lasciate un mi piace perché ci tengo veramente moltissimo inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti di Walking Dead superiamo 120 mi piace per questo video date anche voi il vostro voto qui giù nei commenti all'episodio così insomma possiamo confrontarci qui nei commenti e se volete entrare nel gruppo Telegram per inviarvi i vostri i vostri meme della settimana che speriamo appunto siano divertenti perché così in caso appunto positivo diciamo verranno messi ogni settimana qui sul canale è divertente ragazzi ci facciamo due risate spero che questa cosa per rendervi un po' più partecipi sul canale vi possa piacere fatemelo sapere qui nei commenti io vi ringrazio ragazzi per essere stati qui con me ci vediamo domani con l'analisi della promo vi ringrazio e ci sentiamo domani un saluto da Fox da The Walking Dead news esporre ne altro e bella ciao a tutti 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 Grazie a tutti.